I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Lecce, al termine di un controllo ambientale effettuato a Collepasso, presso la sede operativa di un'azienda operante nel settore della rivendita di auto usate e pezzi di ricambio, hanno sottoposto a sequestro preventivo d'urgenza un'area di circa 10.000 metri quadrati. Su quest'area era stata avviata un'attività di gestione non autorizzata di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, costituiti da componenti in metallo e in plastica di autovetture, materiale coibentante per automezzi, traversine ferroviarie, pali telefonici in disuso, bidoni in ferro di varia grandezza, componentistica elettronica e parti di computer, ingombranti e mobili vari, pneumatici esausti, insegne di esercizi commerciali e legname. Al termine del controllo, il legale rappresentante della ditta in questione è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Lecce per gestione non autorizzata di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. Il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro è di circa 50.000 euro. Del sequestro è stata data immediata comunicazione, oltre che all'autorità giudiziaria, anche a quella amministrativa per i provvedimenti di competenza. A Corigliano d'Otranto, inoltre, i militari del NOE hanno eseguito un altro provvedimento simile. I sigilli in questo caso sono scattati su un'area di circa 200 metri quadri. Sull'appezzamento era stato rimosso il terreno esistente per poi stoccare rifiuti speciali non pericolosi, soprattutto materiale di risulta. Anche in questo caso, per il proprietario del terreno agricolo, è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica di Lecce per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi.